Lecce di nuovo al lavoro oggi in preparazione della partita di sabato prossimo in casa del Catanzaro. Per i giallorossi si è riaccesa la speranza di conquistare la zona playoff che ora dista due punti grazie alle mancate vittorie delle concorrenti ma anche in virtù del successo di due giorni fa contro la Versa Normanna. La squadra salentina ha ottenuto i tre punti pur evidenziando la solita dipendenza da Moscardelli e un certo disordine nella prima parte della sfida. Mister Bollini ha cambiato ancora le carte in campo inserendo accanto al bomber Leali, Lepore, Gustavo ed Herrera in posizione di suggeritore. Trazione anteriore che si è subito fatta valere con Herrera e Lepore con Moscardelli che al tredicesimo minuto ha costruito il gol del vantaggio. Sette minuti dopo un tiro di Herrera ha lambito il palo poi Moscardelli ha cercato il bis prima con la zampata del Leone poi con la furbizia della Volpe. Nel finale del primo tempo Salvi ha provato a far valere le sue doti balistiche ma il gol è stato realizzato ancora da Moscardelli. Al quarantaquattresimo il centro attacco ha raccolto senza complimenti il regalo del portiere Lago Marzini. Lecce all'attacco anche nel secondo atto. Subito Moscardelli ha sfoggiato il suo sinistro poi dichiara messo alla prova i riflessi di Lago Marzini. Verso il decimo giro di lancette si è fatta vedere in avanti la squadra ospite con Mangia Casale. La versa normanna è stata la brutta copia di quella che si era fatta apprezzare negli ultimi tempi e al tredicesimo minuto Gustavo imbeccato da Salvi l'ha castigata. 3 a 0 ma tutt'altro che sa ziggiano Rossi che sono andati ancora all'attacco. Per tre volte infatti Moscardelli ha bussato di testa la porta campana. Poi il bomber ha centrato il palo. Unico pericolo per la porta di Caglioni la punizione di Giannusa al 45esimo minuto finita sull'incrocio dei legni. Il Lecce ora prepara il test non facile di Catanzaro sfida nella quale mancherà per la squalifica Romeo Papini.